Andrea Biancani arriva a un bando da 15 milioni di euro per riqualificare le strutture ricettive delle marche, una cosa che lei aveva da tempo auspicato per dare un salto di qualità aggiuntiva alla nostra offerta ricettiva regionale. Sì, ormai sono anni che continuo a presentare interrogazioni in consiglio regionale dove chiedevo alla regione di prevedere risorse per riuscire a fare un nuovo bando. Nell'ultima risposta che avevo avuto nel marzo di quest'anno ancora le risorse non erano state stanziate e quindi avevo avuto una risposta negativa. Invece i giorni scorsi c'è stata una risposta positiva dove la regione Marche ha previsto, grazie a fondi ministeriali, questo lo voglio dire, per il 2024 un nuovo bando per riqualificarle alberghi, bed in breakfast, tutti quelli che fanno accoglienza turistica in generale con un bando di 15 milioni di euro. Ricordo che nel 2017 come regione Marche il precedente governo aveva fatto un bando, avevano partecipato a livello regionale oltre 300 strutture recettive, di queste circa 150 avevano avuto un contributo importante da parte della regione, oggi quindi c'è necessità di fare un nuovo bando. È chiaro che i privati hanno voglia di investire, sono disponibili a investire ma hanno bisogno di un sostegno. Il turismo marchigiano fa parte importante per l'economia del territorio, abbiamo visto che però i turisti hanno internazionali, cioè oltre ad essere nazionali, molti vengono da fuori Italia, quindi europei ma anche da fuori Europa, chiedono strutture sempre più di qualità con servizi in grado di fornire quei servizi che molti alberghi in giro per il mondo riescono a dare. Quindi gli investimenti sono importanti ma ricordo che il turismo è anche un'occasione di lavoro per migliaia di marchigiani e quindi riuscire a implementare il turismo, migliorare i servizi rendendoli sempre più di qualità è anche un'opportunità di lavoro importante per il nostro territorio.